Oggi è il Darwin Day, l'anniversario di nascita del celebre evoluzionista che ha rivoluzionato le nostre conoscenze sull'uomo e sulla terra. Vediamo il servizio di Giorgio Pacifici. Avrebbe compiuto 210 anni Charles Darwin, padre della teoria dell'evoluzione nato nel 1809, rivoluzionò la nostra concezione della storia dell'umanità. Prima di lui non c'erano valide teorie scientifiche a spiegare la nascita dell'uomo e degli animali sulla terra, ma poi con la scoperta della selezione naturale tutto cambiò nella nostra visione della vita. La natura, le piante, gli animali, tutti gli organismi si trasformano, si trasformano per adattarsi alle spinte, alle pressioni che l'ambiente impone loro. Tanti gli appuntamenti dedicati al Darwin Day, tra cui le visite guidate al Bioparco di Roma, dove è possibile osservare direttamente che cosa l'evoluzione naturale ha modificato negli animali, ad esempio nei pinguini. Per vivere in acqua, nei mari, per cercare il pesce sott'acqua, sono diventati un po' come dei pesci, ma sono sempre uccelli. Il loro piumaggio è diventato molto compatto, le loro ali non sono più utili per volare, ma servono invece per nuotare come pinne in acqua. Il mondo di oggi forse non sarebbe piaciuto a Darwin. Gli ultimi studi dicono che il 40% delle specie di insetti indispensabili per l'ecosistema è sulla via dell'estinzione. Ancora.